Terza edizione dell'iniziativa Un Pieno di Libri, un'iniziativa che l'assessorato alle biblioteche ha realizzato per le scuole di Fano. La lettura è sempre uno dei traguardi più importanti che persegue appunto l'assessorato. All'assessore Samuele Mascarine chiediamo qual è il programma di questa terza edizione, assessore? La terza edizione invernale che si somma a quelle estive che hanno avuto tanto successo in questi anni. Tre edizioni invernali importanti perché hanno coinvolto oltre 3.500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 129 classi, 41 solo quest'anno. Incontri con autori e autrici che si svolgeranno qui alla Mediateca Montanari a partire dal lunedì 19 febbraio. Proseguiremo poi il 26 febbraio, l'11 marzo, il 18 marzo e infine avremo una premiazione che concluderà questo percorso con un concorso di poesia legato ovviamente ai testi presi in esame il 25 marzo sempre qui alla Mediateca Montanari. Quindi un percorso importante, molto partecipato, molto sentito dalle scuole che sono protagoniste, mi piace ricordarlo, insieme alle librerie della nostra città. Questo all'interno di un contesto che è quello del progetto Fano Città che legge, che da tre anni stiamo portando avanti in tanti modi e un pieno di libri è sicuramente una delle proposte di maggior successo, molto attesa e devo dire anche molto richiesta dalle scuole della nostra città.